Settimana Settimana Qua sono i treni La squadra dei treni contro la squadra degli hackathon E' vero Che cazzo facciate l'amore ragazzi Guarda come la tengo, guarda come la tengo, guarda come la tengo Come avanza Guarda come avanza Guarda come avanza Nooo c'ero Me l'ha rubata Ma sei diventato panqui pane Con i zenig Oh merde 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 Ma che c'è, va che c'è, va al sogno Ma l'agentro Vai no porca pitena Mamma mia Vabbè però vabbè però t'ho fatto un cazzo di assist C'è in pratica te li ho passata io Guarda se son volato tre ore prima Allora li t'ho passata io va No tu eri in mezzo che cercavi di pararmela Muro pesco, muuro pesco Grande Jack Portiere tra le mani bucate Cagate Vabbè Gesù ma non c'entra niente Eh Eh Di volte mi cambia telecamera che palle No di ehm No cazzo Eh si si ma non capisco Gnate che parte con il coso Me la cambio Uh Entrata, Wolfman Il nostro numero 10 tipo No 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 Il suo bel mondo sulla testa del mello No Che arriverà prima No Primo No No Puntositi della palle toccata Non mi anticipo Aia Spingono male Spingono male Pogaro Pesce si spingono bene No Madonna che parata Mamma mia Stava entrando eh E quando ho detto madonna che parata Non volevo dire che madonna che parata è bella Madonna che parata è di merda Volevo dire Che al momento stava entrando Vabbè l'importante è la parata Poi che sia di merda o meno Quello è relativo Più o meno E basta che non entra Ah ecco appunto Più o meno Dipende No ecco non così Non ero io quello Ero io Ah ok Ero io Ero io Ero io Ero io Che è che mi spinge il libro Ma che casino Anche me Stavo Trapalando il culo qua Oh e basta spingermi Che cazzo è Gioco di palla o di Palle Eh fatti Delle mie che ci stanno parlando Domanda Poco sono rifiuto a prendere una velocità dopo tre ore Vabbè Dalli buttatela in avanti Ti sto ruotando in Tu me stesso Per tre ore Vabbè 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 Entrerà Vedremo qua Ma a No Vabbè Vabbè Cordel Vabbè Red Seoi Vabbè 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 vai lì vai per messa al centro vai per messa al centro vai che entra vai che ben vai che ben cazzo Tony però devi hai ragione ora mi applico il ragazzo non si applica no scaricati un'app decente fai aggiornamento di software Tony 2.0 a proposito uscirà un nuovo aggiornamento ragazzi che sarà già uscito però non lo so quando uscirà questo video di playstation 3 soltanto di vai io ho segnato soltanto di stabilità di stabilità di playstation 3 quindi voglio dire che ancora continua a supportare playstation 3 è solo contento buono buono è giusto è giusto che cazzo è cosa buona è giusta prima attacca prima attacca è andata là coccode 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 io continuo sempre a srotolare la minchia di questa cosa è bruttissimo è srotolare la minchia è una cosa che mi piacerebbe fare ah che ti piacerebbe fare adesso che mi parola abbiamo le prove voglio di vedere guarda ma per protesta mi metto qui è giustizio no no magari facciamo più gol ah che c'è di merda guarda che ne ho fatto anche un gol bastardo oh no bo buccia forse si no l'ha fatto molto no però prima l'ho fatto dei gol no ero qui bestia ero dentro la porta non riuscivo a capire come cazzo direzionati non riuscivo a tenermi come giravi come una trottola tu mi fai girare tu mi fai girare come un gigilatrottola non ero una bambola come cazzo che è la trottola tu ricordavi gigilatrottola chi è gigilatrottola? che c'era il tizio che era un nano di merda che giocava a basket e si scopava la tipa più figa della scuola io sblocco trofei la storia della vita allora praticamente che c'era un cazzo di cane più alto di lui che gli rompeva coi giorni perché era innamorato della tipa no non te lo ricordavi magari se vedi le immagini te lo ricordavi che ha gigilatrottola eh non mi ricordo la sigla quello era quello era non era di colore no, quello era un bambinetto di merda infatti mi sbaglio con quell'altro nanetto nero oddio che è come si chiamava quello che faceva ridere nanetto nero oddio ma ma un film si tre film ah quello è un film no no chi è il film di un nano nero è famosissimo parca puttana mi ricordo il nome oddio no oddio mi devo via da le palle se non mi faccio altro gol da le palle nooo era lì wow attenzione e mi da gol a me tiro dietro bravo stami dietro vediamo il gol guarda io tiro e quello lì mi fa il favore di autosegnazzi bellissimo gigi lo sa che gigi gigi non è nananana 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 gigi nini 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 è fighissimo ok ok no dai era epico quel cazzo di cartone per pervertiti no no cazzo lui hanno usato sempre le mutandine della tipa ti ho sentito si ricordo lo fa cosa non c'è la città uscito qui ci va un bel trofe trovo no 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 cazzo 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 incontro cazzo 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 un goccato un po' di colp un po' di farmi parte un po' di farmi parte 15 punti che cazzo pericolano la velocità no ottimo eh va a fa' un culo bravi bravi, c'è la verità teoria ma no questo me lo sai cazzo bastardo mi ha anticipato no io ho mancato la pallina no via lontana madonna paratata che è stata geniale quella che si vedeva pure la bravura si no ero entrato fan del biliardo ah vedi perchè l'ho spinto io e gli ho fatto pari gol però lì ero cazzo stavo cercando di fare la velocità guarda vabbè questo gol è mio ragazzi come deve essere mio al massimo è mio è mio in realtà che poi non ho nemmeno spinto wolfman ho spinto l'avversario ed è entrato c'è una roba strana carambola qui oddio mio meravigli che c'è sto tizio qua no jack dove sei sono qui eccolo vai jack in mezzo vai jack nooo cazzo sferma tanto vuoi sbuca vuoi un cazzo di micio buh nel culo di qualche londra 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 perchè c'erano tante giustamente londre questo gol me lo sento bellissimo vabbè balla al centro addirittura un po' come senti l'uccello di vinci quando ti penetra o per nulla esatto quello vinci se vedessi video dirà cazzo mi hanno sputtanato cazzo non dovevano dire alert spoiler scusate ragazzi aspetta però questo vorrebbe dire che io prendo il cazzo di micio esatto adesso sei d'accordo cazzo forse non è bello per nessuno dei due ormai non hai smentito prima mi dispiace ormai sarebbe troppo tutta cosa abbastanza cazzo ma che pace faccio veramente puttanare puttanare esatto no vai vai ma che pezzo di me me l'ha fottuto ma guarda guarda me aspetta guarda adesso me sono wolf ma mica da lì a segno perchè nessuno l'ha preso guarda me che son volato lo cazzo stavo volando guarda lì ero lì cazzo ero lì era mia ma questo è secondo me per due centimetri per due centimetri dovevo tirarlo fuori dovevo tirarlo fuori facciamo guarda qua due centimetri giusto 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 no no che guadolla mia che parata che ho fatto ragazzi vado cioè questa è bravura eh in realtà foto culo vabbè è bravura ma bastardo toni bastardo no no ma me ne vado cioè guarda cosa ho fatto guarda cosa ho fatto guarda cosa ho fatto di tacco di tacco di culo cioè dopo di questo me ne posso andare eh ma te la fa culo che ti devo dire ok aspetta aspetta ero per cazzo ok ok se no ma sono sono bravo no vabbè sta bene sono troppo l'evoluzione intanto fatta oh grande tu sfonda di tutti sempre più a vivo sono tanto sfonda di tutti va bene va bene oh però mi chiede le abbiamo chiamato sonate si mi chiamato c'è inizio come ha cominciato più che altro gli avete sonate Heave rosa però io ho parato e se vero con le massive colored grande perdita che legge carattante votre oh por d'oro per est Kind pareil guarda com por fatto cbt ragazzi orribile volvo esercizio è se fosse mamma mia no la è finita tanto un pochino che fa caldo voi vedi che in sti secondi che non giochi ci fanno sei gol viaggiato mamma mia sto giocando più trofei io che io nel mio vero profilo i mammut mamma mia ma non capisco ma questi trofei dove cazzo li mette è un sto coso finto cioè non li vedrai mai cioè se io poi mi riconnetterò come ospite ce li avrò cioè se io scaccio figo inutile ma figo inutile c'è un po' di più Grazie per la visione!